Quindi bene o male anch'io, cioè io conosco dal professore universitario che mi viene a vedere al match dottori, medici, politici, anche a persone di Borgata che magari in precedenza hanno sbagliato e quindi è una checchia da baroma, andiamo, c'è una maglia nel quale è il problema, conosciamo tutti e quindi mi ricordo ancora il primo video che abbiamo fatto all'Aurentino 38, un quartiere molto vicino a dove abito io, quindi c'è un sacco di amicizie forti perché sai, adesso dopo tre anni le persone ci chiamano per andare, io non faccio più niente, perché sanno come lavoriamo, qual è il nostro mood, qual è il nostro obiettivo, la nostra finalità, ma all'inizio entri una Borgata con una telecamera ma ti, ma che te mi fai, ma che dai, ma che, sembra sempre no, ma io non canto, sai il gergo di strada io non so uno che parla perché ho visto sempre in maniera sbagliata uno che parla, come se sto raccontando e noi abbiamo spiegato il nostro mood, non era andare, faccio un esempio, a Scampia, cosa abbiamo fatto più volte e parlare del spaccio di droga, non ci interessa quello, ne parlo tanto altro, ma si parla di Scampia solo dello spaccio e non si può parlare di altro, ma noi ci siamo andati, ma invece parlare di famiglie con cinque figli che vivono in una condizione, con tutto rispetto, da terzo mondo, che magari non c'hanno le finestre cioè le finestre rotte e non c'hanno i soldi manco per pagarsi il vetro, ma ti sembra normale nel 2023 in uno stato come l'Italia, in Europa, che ci sono famiglie che devono vivere così è mai successo qualcosa di bello dopo un vostro video dove sono intervenuti per migliorare la vita di quelle persone? Eh sì, allora guarda, piazza Casparri, Ostia, si è sempre parlata per i clan, mafia, però pure là signori, case popolari dell'Ader, una signora nello specifico, come parlo di un episodio ma anche rappresentativo di più situazioni, nel fisiamo polonare con l'ossigeno, casa dentro fracica piena d'umidità, ma questa signora abbandonata a sé, abbandonata a sé grazie